Torna sui vostri monitor l'appuntamento con Piemonte Volley Online, il magazine multimediale nato per soddisfare la vostra voglia di pallavolo. In questo numero il video del Regional Day Femminile, la quinta puntata dell'inchiesta sulle visite mediche con la parola all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino e dei risultati dalla Serie D alla Serie A1. Riviviamo la grande impresa e le emozioni della Brebancar in Champions League e dell'ultimo turno di Serie A femminile. E poi Monica Cresta ci riporta nel suo consueto angolo della tecnica. Ad atlete e atleti nati dal 20 al 26 febbraio, tanti cari auguri di buon compleanno. Sfoglia il 56esimo numero di PVO. Il Volley vive qui.